buongiorno a tutti e ben ritrovati sono il vostro alessio martinelli agente immobiliare del team martinelli remax della polare oggi vi ho portato a casa massima quello che vi mostreremo un appartamento di tre vani con box auto di recente costruzione mai abitato in una zona completamente riqualificata e ricca di servizi scopriamolo insieme eccoci all'interno della tua nuova casa ad accoglierti un grande e luminoso ingresso con soggiorno che ti darà la possibilità di godere dei migliori momenti di relax assieme alla tua famiglia e ai tuoi amici attivo l'angolo cottura di dimensioni più che generose ma attraverso l'abbattimento di un solo muro sarà possibile realizzare l'open space che hai sempre sognato tramite un corridoio poi si accede alla zona notte qui troviamo una camera che in base alle tue esigenze è perfetta come cameretta o studio e confina con la grande camera da letto matrimoniale dove spazio e luce consentono di personalizzarla al cento per cento la chicca il grande balcone panoramico che percorre l'intera casa perfetto per fare colazione o godersi la frescura della sera a completare bagno è un comodo box auto al piano seminterrato visto che spendi da soluzione sono convintissimo che sia la casa giusta per voi a completare questa meravigliosa area condominiale con quale passare delle belle giornate con i vostri figli chiamateci